Risanare presenta Sistema Coprox, la soluzione definitiva per il risanamento delle murature. Coprox è una malta in polvere, interamente minerale per il risanamento e la deumidificazione delle murature degradate da umidità e cristallizzazioni di sali. Coprox si applica senza dover demolire gli intonaci esistenti, salvo i casi in cui siano molto deteriorati o con poca resistenza meccanica. In questo caso le superfici debbono essere preparate e rese idonee alla posa nel pieno rispetto delle strutture esistenti. Coprox è semplice da miscelare e richiede pochi minuti di preparazione. Coprox è semplice da miscelare e richiede pochi minuti di preparazione. Coprox rispetta l'intonaco originale e mantiene il corretto equilibrio di traspirazione. Coprox è semplice da miscelare il corretto Expedition Manca di Vanuare, Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Sistema Coprox Bairi Sanare, soluzioni innovative per l'edilizia. Grazie a tutti.